LDA-C, cos'è, come funziona e perché migliora l'audio? Cos'è il codec LDA-C e quali migliorie introduce rispetto a SBC e Aptx? Sviluppata da Sony la tecnologia è comunque utilizzata oggi da un numero sempre più ampio di produttori. Presentata per la prima volta da Sony Access 2015 la tecnologia LDA-C di codifica audio proprietaria permette la trasmissione di audio in alta qualità via Bluetooth. È infatti utilizzata nelle cuffie wireless, negli altoparlanti Bluetooth e negli smartphone di fascia alta. Con una compressione audio eccezionale, LDA-C permette di ascoltare brani musicali Hi-Res con qualità fino a 96 kHz 32 bit con una larghezza di banda massima pari a 990 kbps. Il codec SBC, Bluetooth standard, permette di arrivare al massimo a 328 kbps mentre Qualcomm Aptx può spingersi fino a 576 kbps. Con l'evoluzione più recente di Aptx, ovvero la versione Aptx Adaptive, il bitrate può muoversi dinamicamente nell'intervallo 279-860 kbps. Il bitrate esprime la quantità di informazioni digitali, bit, che è trasferita nell'unità di tempo. Più è alto il bitrate, più elevata sarà la qualità del flusso audio e video. Come funziona LDA-C? In primo luogo va detto che tutti i ricevitori e i trasmettitori wireless devono supportare il codec LDA-C per poter utilizzare questa tecnologia. Sony ha fissato tre differenti modalità per la trasmissione audio con LDA-C, a 330, 660 e 990 kbps. Per adattarsi a vari scenari di utilizzo LDA-C è in grado di regolare il bitrate. LDA-C viene oggi utilizzato su molti dispositivi che non sono realizzati da Sony ma non certo nelle cuffie economiche. Queste ultime non possono infatti soddisfare appieno i requisiti hardware per gestire i dati in tecnologia LDA-C. Per identificare quali cuffie supportano la tecnologia Sony è possibile cercare il logo LDA-C stampato sulla confezione del prodotto, o comunque fare riferimento alle specifiche. La buona notizia è che il supporto LDA-C è entrato a far parte del progetto Open Source e AOSP Android Open Source Project, che costituisce la base per tutte le versioni del sistema operativo Android. Per verificare se il proprio smartphone Android supportasse LDA-C suggeriamo di attivare le opzioni sviluppatore, toccare in rapida successione, per almeno 7 volte, la voce info sul telefono, numero di build all'interno delle impostazioni di Android, quindi selezionare. Codec audio Bluetooth e cercare la presenza di un riferimento a LDA-C. Abbiamo detto che per poter attivare l'utilizzo della tecnologia LDA-C è indispensabile che tutti i dispositivi coinvolti nel trasferimento dati via Bluetooth siano compatibili. È ovvio che il maggior numero di prodotti LDA-C si trovano ancora nel catalogo Sony, si pensi ad esempio alle cuffie Sony WH-1000XM4, agli auricolari True Wireless WF1000XM3 e agli ultimi modelli di smartphone Xperia, ma negli ultimi tempi sempre più produttori. Stanno via via abbracciando il codec che in Android è supportato sin dalla versione 8,0 Oreo. La lista dei produttori diversi da Sony che supportano LDA-C è consultabile a questo indirizzo scorrendo la pagina fino a trovare la tabella LDA-C Competible Product Zaderden Sony.